Covid-19 in provincia continuano a scendere i ricoverati in ospedale e le terapie intensive. Inizio previsto per la prima fase di vaccinazione anti-Covid entro la fine del 2020. Luci di speranza nell'oscurità, il messaggio del Vescovo Palletti prima di Natale. Rientro a scuola, la campanella suonerà il 7 gennaio, i dispositivi del tavolo di coordinamento con la Prefettura. Le Aquile si preparano al derby con il Genua, città blindata e controlli serrati. Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento del nostro TLS giornale. I nuovi contagi in provincia sono 23, mentre a livello regionale il totale dei nuovi positivi è di 216 a fronte, dei 3.789 tamponi. Nello spezzino diminuiscono ancora i pazienti ricoverati in ospedale, sono 101, un caso in meno nelle ultime 24 ore. Scende anche la terapia intensiva a quota 3. In ASLE 5 non si registra alcun decesso, in base all'aggiornamento delle schede decessi in tutta la Liguria si registrano 16 nuove vittime. Continuano a scendere gli attualmente positivi in provincia, sono 1.318, 22 in meno rispetto a ieri. Le sorveglianze attive sono 721. Il sistema sanitario regionale si sta preparando per la somministrazione delle prime 320 dosi assegnate alla Liguria dalla struttura per emergenza Covid del commissario Domenico Arcuri per il Vaccine Day del prossimo 27 dicembre in programma presso il padiglione numero 3 del Policlinico San Martino di Genova. Le prime dosi andranno a una rappresentanza delle categorie previste per la prima fase del percorso di vaccinazione anti-Covid. Medici, infermieri, personale sanitario, amministrativo, medici e pediatri di famiglia, personale delle pubbliche assistenze. Regione Liguria sta inoltre predisponendo tutte le azioni necessarie per attivare la prima fase della vaccinazione che interesserà circa 60.000 persone e dovrebbe iniziare entro la fine del 2020. All'Asle 5 saranno assegnate 2.562 dosi per l'ospedale di Sarzana e 3.596 dosi per l'ospedale della Spezia. Il tempo in cui viviamo è particolarmente segnato da profonde sofferenze, lutti, incertezze e restrizioni anche se molte sono le luci che risplendono in mezzo a noi e non solo quelle delle luminarie ma ancor più quelle di persone che in questi momenti difficili sanno offrire vicinanza umana, professionalità e solidarietà. Con queste parole di speranza il Vescovo della Spezia, Monsignor Luigi Ernesto Palletti, apre il consueto messaggio natalizio. Sentiamo alcuni passaggi. Le riflessioni che anche nel mondo del lavoro, non solo nella famiglia, nelle istituzioni che viene da questo momento così delicato e che sono un po' crollate tutte le nostre certezze. E fortunatamente il Natale ci dà comunque un messaggio di speranza collegato a questo scoramento che in qualche modo occorre un po' nelle persone, ma non bisogna farsi prendere dallo scoramento, guardare il messaggio positivo. Questo decisamente. La sfida è quella di riuscire a guardare la realtà nella sua pienità, dunque senza l'illusione che sarebbe ogni volta negativa, ma anche guardarla su un orizzonte diverso. Certo, l'orizzonte della fede è fondamentale perché risana loro dall'interno. Non dimentichiamoci che però la fede cristiana non è mai una fede inoperosa, anzi una fede che richiede operatività e di conseguenza la prossimità reciproca, non solo nel caso di emergenza, ma a renderci conto che gli uni abbiamo bisogno degli altri e che come viene ripetuto più volo, nessuno si salva da solo. E questo è ancora più vero anche per la stessa salvezza nostra. Dio ci salva ognuno singolarmente, personalmente, ma sempre nella comunione di un popolo, di una chiesa. Questo si riflette poi anche sulla nostra vita più comune, perché realmente facciamo parte di un'unica terra, di un'unico universo, di un'unica umanità. Ecco, non dimentichiamoci di questo concetto di umanità che ci distingue, ma allo stesso tempo ci mette in comunione profonda. E sappiamo che il bene di uno deve essere il bene di tutti e il bene di tutti deve essere il bene di uno. Questo fa l'altro concetto grande che ci consegna proprio dalla dottrina sociale della Chiesa per quello che è l'esplicazione del bene comunale. Sull'utilizzo dei fondi pubblici e privati per il contrasto dell'emergenza Covid, la Regione Liguria finisce denunciata alla Corte dei Conti regionale e all'autorità anticorruzione. A presentare un esposto alle due autorità, il Codacons, che lo scorso ottobre aveva presentato alla Regione formale istanza di accesso per prendere visione ed estrarre copia degli atti riguardanti la cifra complessiva dei fondi raccolti e le modalità di impiego degli stessi a sostegno delle strutture ospedaliere e del servizio sanitario. Didattica in presenza al 75% e distribuire gli studenti in fasce orarie di ingresso. Sono queste alcune misure decise questa mattina dal tavolo di coordinamento per la riapertura delle scuole prevista per il 7 gennaio 2021. Sentiamo il dettaglio nel servizio di Carolina Cardetti. Misure necessarie per poter riprendere la didattica in presenza prevista per il 7 gennaio 2021 degli studenti delle scuole superiori e di coordinarla con il trasporto pubblico al 50% della capienza totale. Sono questi i temi discussi oggi dal tavolo di coordinamento presieduto dal prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini. Con la previsione della didattica in presenza al 75%, il tavolo ha stabilito che rientreranno quotidianamente in aula a rotazione 6.477 studenti distribuiti fra gli istituti della Spezia, Sarzana, Levanto e Varese Ligure. Analoga percentuale sarà applicata ai 363 studenti adulti dei corsi serali e ai 297 allievi dei percorsi di formazione professionale promossi da Regione Liguria. Inoltre, si è deciso di distribuire gli studenti, salvo eccezioni dovute alle ridotte dimensioni degli istituti, in due fasce orarie di ingresso che corrispondono in linea di massima alle ore 8 e 9 e 30 e di scaglionare gli orari d'uscita in quattro fasce entro il termine massimo delle 14 e 30, in modo da non recare disagi ulteriori agli studenti provenienti dalle sedi più lontane. Gli eventuali recuperi di orario saranno svolti attraverso la didattica digitale integrata. Gli istituti di Levanto e Varese Ligure, invece, non cambieranno gli orari di ingresso e di uscita, dato il numero ridotto di iscritti. Per quanto riguarda invece il trasporto, ATC aumenterà il servizio implementando 159 corse con l'impiego di 50 mezzi aggiuntivi, mentre Trenitalia metterà a disposizione tre bus in più presso la stazione di Levanto nella fascia oraria 7 e 10 e tre presso la stazione della Spezia nella fascia 13 e 16, da utilizzare in caso di sovraccarico della linea ferroviaria. Infine, il tavolo ha individuato nel 30 dicembre 2020 il termine ultimo secondo cui, nel caso in cui tale misure non vengano attuate, il Presidente della Regione potrà intervenire con una sua ordinanza. Un indirizzo turistico di scuola superiore per la Valdivara, con laboratori linguistici, insegnanti madrelingua e aule multimediali. L'Istituto Tecnico Fossati da Passano aprirà la sua nuova sede a Brugnato da settembre. Vediamo il servizio di Laura Ivani con le immagini di Italo Lunghi. Un indirizzo economico ed uno turistico di scuola superiore per la Valdivara. L'Istituto Tecnico Fossati da Passano aprirà la sua nuova sede a Brugnato da settembre. Iscrizioni aperte dal 4 di gennaio. Sono due corsi di studio, due indirizzi di un istituto tecnico e sono, secondo me, fortemente mirati allo sviluppo del territorio che, dal punto di vista del sviluppo dell'impresa, dal punto di vista dell'opportunità turistica, offre ai giovani delle grandi opportunità. Una novità per il territorio della Valdivara in grado di garantire una formazione di alta qualità. È una grande opportunità per le famiglie e per i ragazzi della Valdivara, prima di tutto. Dà la possibilità di avere un'istruzione di qualità e non un'istruzione di serie B come si potrebbe pensare, ma un istituto tecnico con laboratori specializzati, con insegnanti qualificati, con una offerta formativa assolutamente all'altezza di qualsiasi scuola delle grandi città. Si conferma in questo modo non solo la vocazione storica, commerciale e turistica del nostro comune, ma anche quella della formazione scolastica. Quindi un servizio che si aggiunge a quelli che in questo momento ne avevano bisogno, quindi ai nostri utenti, alle nostre famiglie e ai nostri giovani. Il progetto è la realizzazione di parte della strategia per la valorizzazione dell'area interna della Valdivara per quel che riguarda il filone dell'istruzione, su cui i territori hanno lavorato per oltre due anni. L'area interna si sviluppa su tanti temi, questo era uno di quelli più importanti. Io credo che a livello politico abbiamo dato la risposta che tutti i cittadini ci aspettavano e di conseguenza è una misura che ha dato forza a quello che noi volevamo fare da anni. Dopo il passaggio la scorsa estate in consiglio provinciale, il progetto ha avuto anche l'ok formale dalla giunta regionale nei giorni scorsi. Adesso mancano solo le iscrizioni. Finalmente da anni si aspettava un polo di scuola su Brugnato e ce l'abbiamo fatta. Ora la palla passa alle famiglie e ai ragazzi. La scuola ha proposto un'offerta formativa assolutamente di qualità e importante per lo sviluppo del nostro territorio. Ora forza ragazzi mettetecela tutta e iscrivetevi al nuovo corso di studi a Brugnato. Il consigliere regionale e ex candidato alla presidenza della regione Liguria per il centrosinistra Ferruccio Sansa interviene in merito alla possibile vendita a privati di una porzione a Portovenere di Piazza San Pietro naturale continuazione di via Colonna. Quante volte noi Liguri, si legge in una nota, siamo passati per questa strada di ciotoli che sbocca sulla vastità del Mar Ligure sopra la Grotta Bayron. Da oggi però nessuno avrà la possibilità di passare per questo caruggio. La giunta comunale del sindaco e braccio destro di Totti Matteo Cozzani questa sera, afferma il consigliere Sansa, questa sera appunto voterà affinché quella porzione di strada possa essere venduta a privati. Purtroppo, nonostante le proteste dell'opposizione, la maggioranza porterà a casa il risultato anche se per Portovenere e la Liguria, conclude Sansa, sarà un pessimo risultato. Un nuovo treno rock e un pop sono in circolazione sui binari della Liguria, facendo salire a 10 i nuovi treni consegnati da Trenitalia alla regione Liguria del 2020. I nuovi treni sono già in circolazione tra Savona e Genova e Sestri Levante e sulle linee Genova-Busalla-Arquatia-Scrivia e Genova-Aquiterme. Sono bastati pochi giorni agli investigatori del commissariato di Sarzana per giungere all'individuazione del responsabile dell'aggressione ai danni di una coppia di coniugi avvenuta per questioni di viabilità nei giorni scorsi in Piazza Garibaldi a Sarzana. La coppia, che era in transito a bordo del proprio veicolo, stava procedendo a passo d'uomo quando si imbatteva in un gruppetto di giovani a piedi che gli hanno impedito il passaggio. All'invito del marito di spostarsi per far spazio all'auto, un ragazzo del gruppo aveva reagito in modo oltremodo violento. Per l'autore, un ventenne residente ad Amelia è scattata la denuncia per danneggiamento aggravato, ingiuria e minacce. Un altro giovane del gruppo, un ventenne sarzanese, è stato a sua volta deferito all'autorità giudiziaria per minaccia aggravata, poiché nella circostanza aveva minacciato con un sasso in mano la coppia di coniugi. Nell'ambito di un piano di controlli sul transito abusivo fuori strada, i militari della stazione Carabinieri della Forestale di Borghetto Vara hanno sorpreso e sanzionato dei motocrossisti che stavano percorrendo un sentiero vicino all'alta via dei Montiliguri, posto a confine tra i comuni di Rocchettavara e Zeri. Per il transito fuori strada è prevista una sanzione amministrativa di circa 100 euro per la legge regionale e di circa 170 euro per la legge regionale toscana. Si sono verificati questo weekend due incidenti stradali, le persone a bordo non hanno riportato conseguenze gravi. Il primo è avvenuto domenica scorsa verso le 16 a Sarzana e ha visto coinvolta un'auto con sette ragazzi a bordo che dopo aver attraversato un incrocio senza rispettare il segnale di stop si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti oltre alla polizia i vigili del fuoco e due ambulanze. A tutti i ragazzi è stata contestata una sanzione di 400 euro. Il secondo invece è avvenuto domenica sera a bordo dell'auto una donna con un'amica che dopo essere uscita dal casello di Deiva Marina ha urtato un muro di contenimento. La donna in evidente stato di ebrezza è stata denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale mentre l'amica è stata sanzionata per aver violato le norme anti-covid. Una poliziotta salva una persona caduta in mare. L'episodio è accaduto domenica scorsa verso le 16 quando dopo una segnalazione di alcuni passanti la polizia interveniva sul posto. La poliziotta vista la gravità della situazione si è buttata nelle acque della passeggiata Morin prestando soccorso alla persona in pericolo. Questa sera in onda su Tele Liguria Sud e in streaming sui canali social del Comune della Spezia e della Società dei Concerti l'ultimo appuntamento della rassegna musicale Classica in Jeans. Sentiamo i dettagli nel servizio di Carolina Cardetti con le immagini di Raffaele Maulella. Questa sera andrà in onda l'ultimo spettacolo della rassegna musicale Classica in Jeans. Quale sarà lo strumento principale di questo spettacolo e qual è il titolo? Allora sì stasera c'è il terzo appuntamento lo strumento principale in realtà gli strumenti saranno due stasera perché la musicista che si esibisce suonerà sia l'arpa che il flauto e proporrà un programma ovviamente appunto scelto da lei è una giovanissima 21 anni tra l'altro si è formata integralmente qua alla Spezia musicalmente e quindi insomma ricordiamo a tutti gli spettatori di collegarsi al canale YouTube o anche ai canali social di Teatro e Comune e anche ovviamente su Tele Liguria Sud che gentilmente ci ospita in questa rassegna. Quali saranno se ci saranno degli appuntamenti futuri? Allora gli appuntamenti futuri visto ovviamente il periodo insomma non è facile parlare di una programmazione certa però ecco l'impegno che sicuramente stiamo cercando di mettere è quello di portare a termine Classica in Jeans che doveva essere una rassegna di cinque appuntamenti e quindi per ora si è concentrata su tre e cercare comunque a gennaio di far sì che avvengano anche gli altri due questo diciamo per parlare del futuro ovviamente più vicino e poi l'altra cosa in realtà che viene prima che siamo riusciti a mantenere è il concerto di fine anno quindi si potrà godere di buona musica al 31 anche stando a casa perché trasmetteremo anche quello e sarà una bella occasione da passare insieme a musiche legate al tango e a colonne sonore di Agno Moricone. Ottanta pacchi e giocattoli in dono ad altrettanti bambini perché Natale è anche e soprattutto un messaggio di gioia e di speranza è questo il regalo che il club Rotaract Sarzana, Lerici, ha voluto fare alla comunità sarzanese pensando ai bimbi delle famiglie più in difficoltà che frequentano le scuole elementari del nostro territorio i pacchi saranno consegnati dai volontari del gruppo comunale di protezione civile che per l'occasione si trasformeranno idealmente in babbi Natale sarzanesi. La storia dei cinque anni più tragici della spezia moderna come non vi è mai stata raccontata. Axe, la guerra in casa, è il titolo dell'ultimo libro del giornalista Gino Ragnetti. Raffaele Maulella lo ha intervistato. Vediamo il servizio. Gino Ragnetti, giornalista, uno dei massimi esperti della storia spezzina è nelle librerie in edicola in questi giorni l'ultima fatica un libro che racconta i cinque anni più terribili della storia della spezia quelli della seconda guerra mondiale ma con qualche novità. Sì perché in questa storia che in larga misura si riconosce tutti riconosciamo la storia dei bombardamenti, le sofferenze, le privazioni che sono state c'è una parte che è un po' un gioco degli scacchi, un mortale gioco di scacchi tra gli italiani e i tedeschi che avviene nel 1943 nel pieno della guerra quando spezia sotto i bombardamenti, l'Italia sotto i bombardamenti cerca di sganciarsi dall'asse, dall'Alleanza con la Germania per cercare un armistizio con gli alleati. I tedeschi subodorano qualcosa, sanno, capiscono che la situazione sta volgendo al peggio per loro e infiltrano in Italia intere divisioni della Wehrmacht per evitare di perdere l'Italia, di perdere le armate di Kesselling che sono al sud dell'Italia per evitare che gli alleati arrivino con i loro bombardieri al Brennero e da lì alla Germania a due passi. Hitler in particolare decide di attivare un piano che si chiamava Alaric che era formato da diverse operazioni una era la cattura del governo italiano, un altro la liberazione di Mussolini e un piano che era il piano Axe, da qui il titolo del libro che prevede la cattura della flotta italiana alla fonda nel Golfo della Spezia. Lo Stato Maggiore dell'esercito italiano aveva intuito e aveva preso le contromisure grazie al generale Caracciolo venuto a Spezia per organizzare la difesa senza insospettire i tedeschi e trasferendo a Spezia un corpo d'armata del quale facevano anche parte gli alpini della divisione Alpigraie e i fanti della divisione Eurovigo. L'8 settembre, all'annuncio dell'armistizio, Hitler fece scattare il piano Axe che prevedeva l'assalto a Spezia da parte di tre divisioni. Questa operazione fu contrastata dagli alpini, soprattutto gli alpini della Alpigraie che sulla linea del Magra contrastarono le forze tedesche consentendo così all'ammiraglio Bergamini, mandante in capo della flotta italiana di levare le ancore e di uscire dalla trappola. Questo è uno dei tanti eventi raccontati in questo nuovo libro però che contiene tante altre storie. Sì, ci sono tante storie ovviamente nel tempo di guerra cioè come viveva la gente a Spezia, quei pochi che erano rimasti che non erano sfollati per sfuggire ai bombardamenti. Una storia che dice qual era il clima di quei tempi è che nel momento peggiore di Spezia, nel cuore del 43, sotto i bombardamenti lo stesso pontefice Pio XII telefonò al vescovo della Spezia, Monsignor Costantini per capire, per sapere cosa stava succedendo da queste parti. Per evitare assembramenti durante la partita di domani sera tra Spezia e Genoa verranno aumentati i controlli da parte delle forze dell'ordine e l'appello delle istituzioni ai tifosi è quello di restare a casa. Il servizio di Jacopo ci dà le immagini di Raffaele Maulella. Sindaco, domani sera a Spezia e Genoa, sicuramente una sofferenza per tutti non essere allo stadio, però soprattutto in questo particolare momento bisogna osservare tutte le misure di sicurezza anti-Covid. Sì, il Comitato dell'ordine della sicurezza ha detto di raccomandare a tutti i tifosi di stare a casa di guardare la televisione e quindi esultare per lo Spezia sicuramente nel modo più sicuro possibile però non fare assembramenti, non andare dall'abergo dove viene ospitato lo Spezia proprio per cercare di evitare pericoli, contagi, perché la situazione è delicata e dobbiamo avere il rispetto delle regole come primo nostro obiettivo. Poi chiaramente tutti insieme tiferemo lo stesso allo Spezia davanti alla televisione perché siamo tutti i primi tifosi e quindi tutti vogliamo chiaramente vincere o deliziarci delle grandi giocate che fa la nostra squadra. La raccomandazione è proprio questa, rispetto delle regole, state a casa e forza Spezia. E domani appunto il giorno di Spezia Genua, il derby Ligure che per la prima volta si gioca in Serie A appuntamento allo Stadio Pico, domani alle 20.45. Vediamo, sentiamo le parole del tecnico Aquilotto Vincenzo Italiano alla vigilia del match. Ponzo, lancia in avanti verso Guidetti, attenzione Guidetti, non c'è un pallone, e vincente! Quella partita vide lo Spezia battere il Genua in uno stadio gremito, in una partita sentitissima e penso che ci sia una differenza abissale domani che sarà quella di avere il picco vuoto che non ci può dare una grossa spinta perché sicuramente sarebbe stato così però l'importanza della gara rimane tale, rimane una gara dove dobbiamo cercare di affrontarla come fu affrontata da quella formazione che alla fine vinse e cercare di iniziare a dare qualcosina in più perché in questo momento qua quello che stiamo dando che è tantissimo ma a quanto pare non sta bastando quindi dobbiamo cercare di tirare fuori il massimo in una partita così importante in una partita dove tutte e due le squadre ci giochiamo tanto e quindi dobbiamo iniziare oltre a ricevere complimenti anche di iniziare a fare i punti importanti ma è chiaro che quando arriva un cambio di guida tecnica c'è sempre quella scossa chiaramente emotiva da parte di tutti chi sta fuori cerca di mettersi in mostra, chi andrà in campo cercherà di dimostrare al nuovo allenatore la fiducia che può avergli dato quindi per noi è una difficoltà in più però per noi cambia poco cambia poco perché l'ultima gara prima di una piccola sosta dobbiamo cercare di arrivarci concentrati, attenti e disputare prestazione di livello come abbiamo fatto le ultime però come ho detto prima bisogna cercare anche di dare qualcosa in più tutti noi abbiamo il desiderio di fare una bella partita perché solo così puoi essere competitivo puoi anche divertirti faticando perché devi essere sempre molto serio ti devi sempre dare molto da fare ma nella serietà, nell'impegno, nella fatica poi trovi la soddisfazione la classifica la guardi, la guardiamo tutti perché è così però è chiaro che da qui in avanti dovremmo cercare di fare meglio di quello che è stato fatto fino ad ora sul secondo gradino del podio del ciocchetto event è su questo gradino che BB Competition ha archiviato la stagione sportiva 2020 sulle prove speciali dell'appuntamento la scuderia Spezzina si avvalsa di un portacolori d'eccezione l'undici volte campione italiano di rally Paolo Andreucci vediamo il servizio di Gabriele Michi ha secondato le aspettative della vigilia la comunione di intenti che ha interessato la scuderia BB Competition il team PRT di Daniele Pellegrineschi e l'undici volte campione italiano rally Paolo Andreucci per il sodalizio Spezzina la stagione sportiva 2020 è andata in archivio sul secondo gradino del podio del ciocchetto event cornice divenuta valida occasione per garantire al pluridecorato pilota supportato in questa stagione agonistica da Peletto Racing Team due intense giornate volte ad approfondire il comportamento della Citroen C3 R5 su asfalto fondo finora mai affrontato al volante della vettura francese Gommata Pirelli è stata per noi una gara così per conoscerla dovevamo fare dei test ma c'è stata l'occasione di rinuncia di Claudio Arzà alla gara che sta benissimo però deve ancora rimettersi un po' dall'ultimo incidente ma la gara per noi è stata increscendo facendo un po' di testa in questo terreno che non l'avevamo mai provata per cui è stata molto difficile però siamo migliorati complimenti a Scandola perché ha fatto una bellissima gara per cui successo meritato a condividere la progressione del campione italiano rally due ruote motrici 2020 sulle 13 prove speciali in programma è stato David Castiglioni copilota che al fianco del driver di Castelnuovo Garfagnana ha conquistato nel 1994 il titolo italiano due litri un connubio riproposto all'insegna dei colori di BB Competition struttura che ha voluto garantire ai propri partner la grande visibilità legata all'attività sportiva di Paolo Andreucci un'avventura un po' dell'ultimo momento e avevo un conto in sospeso con Paolo dopo la fine di Roma del 2018 dopo che ci siamo potuti ritirare all'ultima prova e niente potrei dire tante cose io dico soltanto grazie a tutti quelli che hanno creduto in me chiaramente nomino Simona, Claudio, Leonardo perché veramente la BB Competition fa parte di me e come loro sanno io in macchina ho dato anche il mille per mille proprio perché so che tutti mi seguono e tutti credono in quello che possiamo fare insieme che secondo me è una cosa molto importante, grazie a tutti per questa edizione è tutto io vi lascio le previsioni meteo a cura di Limet, il centro meteo per la Liguria vi ringrazio della cortesa attenzione e a tutti auguro un buon proseguimento di serata, arrivederci una buona serata a tutti da Daniele Gallo flussi zonali atlantici continuano a dominare la scena sull'Europa centro-occidentale e sul nostro paese ancora per un paio di giorni ma veniamo in dettagli per quanto riguarda la giornata di domani, mercoledì 23 dicembre al mattino la nuosità sarà diffusa ovunque con qualche timida schiarita solo sull'Imperiese nel pomeriggio e in serata saranno anche possibili dei piovaschi tra Genovesato e Spezzino e relativo a Entroterra mentre sull'Imperiese resistono le schiarite che si alterneranno ad annuvolamenti i venti si disporranno da Libeccio e si faranno tesi dal pomeriggio su Imperiese e Savonese occidentale e nelle valli interne del settore centro-orientale il mare quindi sarà generalmente mosso per onda da sud-ovest ma è in aumento a molto mosso nel corso del pomeriggio le temperature saranno generalmente stazionarie i valori minimi costieri oscilleranno tra 9 e 12 gradi mentre quelli massimi tra 12 e 15 gradi se volete maggiori informazioni sul tempo di domani e dei prossimi giorni potete visitare il sito centrometeoligore.com A presto!